Ancora accusi a Lazzu da parte dell'Unione degli Universitari, la residenza universitaria pubblica rischia di scomparire perché il complesso proposto dall'Aterri il Moro non è ritenuto adeguato all'esigenza degli studenti che dovranno lasciare la Campomizi. Nessun servizio, lì come sale studio e mensa e anche utenze e spese condominali, a carico denuncia l'UDU degli studenti. Non solo, anche difficoltà per i trasporti e collegamenti. Non una vera e propria residenza, spiegano insomma, ma appartamenti ad affitti più bassi. La scelta si rivela totalmente inadeguata ad ospitare una residenza universitaria in quanto verrebbero a mancare tutti quanti i servizi di una residenza, quindi non ci sarebbe una mensa aperta seralmente vicino alla struttura, mancherebbero le sale studio, il bar, tutti i servizi che la presidente stessa del Cida dell'Azo aveva prospettato anche in altre occasioni. Sarebbero a carico degli studenti anche tutte quante le utenze e il condominio. Non crediamo che l'Ater sia una soluzione adeguata all'esigenza degli studenti borsisti. Gli studenti chiedono che in attesa della realizzazione delle nuove case a Casale Marinangele e alla Carducci di rimanere alla Campomizi che ha comunque 360 posti letto, mensa, sale studio e altri servizi al momento per loro è l'unica soluzione. Noi chiediamo alle istituzioni comunali e regionali di farsi carico della situazione, dare atto del fatto che non esiste in questo momento una situazione alternativa e pertanto creare le condizioni per far rimanere gli studenti universitari a Campomizi che oggi è l'unica residenza pronta e l'unico posto in questa città che può dare risposta ai fuorisede per abitare qui.